L'ultimo incidente in ordine di tempo è accaduto ieri sera e l'autosole lungo il tratto Aretino è rimasta di nuovo chiusa con 10 chilometri di coda. Una coda che ormai è praticamente costante e che rende la percorrenza del tratto molto lenta. Una strozzatura per così dire che rischia di compromettere di molto la mobilità della zona anche perché la viabilità alternativa soprattutto per il nord-est è allo stesso modo poco agevole vista la frequenza di creazione di nuovi cantieri sulla I-45. L'autostrada del sole non solo in questo tratto è a due corsie ma difficilmente potrà essere trovata una soluzione dal momento che non ci sono progetti né spazi per allargarla. Rimane il fatto che il traffico massiccio che arriva sia da nord che da sud dove le autostrade sono a tre corsie rimane poi intrappolato nel tratto Aretino con conseguenze difficile per tutti. Strade pericolose ma anche molte distrazioni che vista la situazione nessun automobilista può permettersi.